Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Affrontiamo anche quest'oggi temi diversi, naturalmente di attualità e di grande importanza. Parliamo di opportunità di sviluppo, di crescita, parliamo di centri urbani, cittadini, quindi i protagonisti sono i comuni, i protagonisti sono i commercianti, le attività commerciali ma anche turistiche. Hanno un valore, una valenza strategica, l'abbiamo ribadito più volte, voi lo sapete perché spesso ci stimolate su queste tematiche. Una legge regionale, la legge 50, istituisce i distretti del commercio. Che cosa sono? Si tratta soltanto di parole al vento come alcuni tante volte criticano o sono fatti? Si tratta di progetti strategici importantissimi e poi vedremo come si andranno ad articolare. Si tratta di mettere delle risorse, di contribuire a rendere il gruzzolo un po' più consistente e poi fare delle opere concrete che attivino, che muovano un po' l'economia del territorio, vario l'orizzo, non ancora di più i centri storici, consentano ad alcuni comuni che aderiscono, che hanno vinto una specie di concorso di bando, ne parleremo bene nel dettaglio con i nostri ospiti, di fare qualche opera in più per rendere più appetibili i centri cittadini. Tutto bello, bisogna vedere come viene attuato questo, che tipo di risorse vengono investite, che tipo di sforzo è richiesto e quali sono i protagonisti. E allora ve li presento subito. Ben ritornato con noi in studio Nicola Rossi, Presidente Confesercenti Padova, grazie di essere qui, che siete gli attivatori di questo progetto, spiegheremo anche il perché. Giacomo Pessa, coordinatore del progetto strategico regionale per il distretto di Este, grazie anche a lei. Marco Serraglio, direttore Cescot Veneto. Buonasera. Poi abbiamo Luisa Cagnotto, consigliere del Comune di Este, delegato per la Confesercenti, scusi, come commerciante. Claudio Benatelli, Abano Terme, ho lasciato prima la signora nella fila dove eravate, che invece è assessora al turismo e anche al commercio per il Comune di Abano Terme, quindi una zona anche strategica, parliamo di Terme, Terme di Venezia, poi ci saranno diverse provocazioni da vedere. Alessandro Bisatto, sindaco di Noventa Padovana, grazie anche a lei. Allora, l'articolo che è uscito ieri nel gazzettino di Padova, a parte economia, commercio, arrivano i distretti. Una bella provocazione, a letta, perché poi quando si parla di organizzazione c'è qualcosa di nuovo, vediamo di spiegare di che cosa si tratta, no? I distretti finalmente recepiscono un'esigenza, in realtà noi abbiamo partecipato con un certo numero di bandi a questa iniziativa, a questa disponibilità della regione, bisogna dar l'atto alla regione di aver aperto un canale interessante per le attività, per il territorio soprattutto, ma soprattutto quello che istituiscono, cioè il manager di distretto è qualcosa che noi sono anni che stiamo in qualche modo... Ci state lavorando. Ci stiamo lavorando. Il manager di distretto è una figura importante, è una figura che va a coordinare le varie, come dire, attività, va a coordinare il territorio, va a coordinare le attività dei commercianti con le attività della pubblica amministrazione. Insomma, è una figura che per noi è sempre stata chiave, perché mette insieme, fa un unicum di un apparato che in realtà è disomogeneo, cioè è un soggetto molto importante e qui viene istituito finalmente. Questo è un passaggio chiave. È un passaggio chiave. Senza considerare la disponibilità economica che andiamo a intercettare, la possibilità di fare interventi anche strutturali sul territorio, per cui ci siamo come modello, come... Ma ha richiesto tutto un concorso, un'attivazione particolare? Naturalmente, sono dei bandi ai quali noi abbiamo partecipato, con dei risultati, devo dire, buoni. Diciamo che tutta la provincia di Vada è intervenuta in maniera... Significativa. ...interessante. Infatti voglio sentire proprio il Cescote, come si è strutturato questo... E per capire anche se poi è mutuabile come modello. Beh, indubbiamente noi da un po' di tempo che stiamo portando avanti questo modo di organizzare il commercio. La Regione Veneto stessa, sono 7-8 anni, questa è la quarta edizione del Bando, è arrivata a definire distretti del commercio proprio a seguito delle sperimentazioni che ci sono state fatte negli anni scorsi. Come dire, è da tempo che ci stiamo lavorando. Luisa è venuta anche con noi, ha una visita studio dove in realtà i distretti del commercio o i business district, come sono chiamati all'estero, vivono da tempo. Chi conosce New York sa qual è la via commerciale più importante al mondo, probabilmente la Fifth Avenue. In realtà la Fifth Avenue è diventata così perché dietro ci sta un'organizzazione che da tempo lavora lo sviluppo di quell'area là. Ecco, questo è sempre proprio calzante, perché io immagino chi ci segue dall'altra parte che dice, e beh, che cosa serve sta cosa qui? In realtà l'esempio è eclatante. Se c'è un'organizzazione, poi magari sentiremo anche il manager di distretto concretamente cosa deve fare, possono cambiare i presupposti. Io ricordo, adesso chiedo conferma anche a Nicola Rossi, via Roma a Padova in centro è stato oggetto di una sperimentazione. Era, non dico il nulla, ma il nulla di fatto lo era. Lo era. Lo era, c'era un deserto, è un po' tipo via Vescovado, adesso, insomma, via di passaggio. Possiamo citare tante vie. Sì. Invece è diventato un'asse importantissimo. Un po' strategica. Assolutamente strategico. Di collegamento. Anzi, forse è l'unico asse che in questo momento lavora, cioè dove i commercianti stanno lavorando, addirittura più dell'area delle piazze, decisamente più dell'area. Infatti, se noi vediamo durante i saldi, durante le vendite straordinarie o normali, tu vedi il flusso è quello, Prato della Valle, Sistema delle Piazze. Ed è stato oggetto di uno studio, perché è stata una sperimentazione. È uno studio che abbiamo fatto tanto tempo fa, ma il concetto era sempre quello di coordinare l'attività, perché noi abbiamo tanti organismi, dobbiamo metterli insieme. Tantissimi. Questa è la realtà. Bravissima. Cioè unificare. Bravo, questa è una cosa, infatti tante volte veniamo criticati, qui ripasso la parola rubata, però l'esempio è stato calzante, perché abbiamo conf, conf, conf di tutti i tipi, e poi diamo possibile con tante associazioni, con tanti organismi, con tante entità, non si riesce a fare qualche cosa. Qui voi siete stati molto concreti, no? Sì, noi, beh, indubbiamente il successo dipende da tutti i soggetti che si mettono assieme. Ci vogliono le associazioni che lavorano assieme, ci vuole qualcuno di longimirante che porti avanti un progetto che non è solo un contenitore di eventi, ma è un progetto organizzativo. Ci vogliono le amministrazioni che accettano la sfida e che ci stanno in una logica sussidiaria, perché anche le amministrazioni che hanno vinto questo progetto hanno detto, bene, alcuni temi riguardanti il commercio li diamo in mano a un manager. Spesso invece... Quindi viene delegato fuori dall'amministrazione. Viene delegato fuori dall'amministrazione. Ovviamente non le competenze politiche, vengono delegate delle competenze manageriali. E' chiaro che magari in alcune realtà, come c'è capitato anche in alcuni tavoli, di sentire questa affermazione, può essere che, come dire, siccome alcune attività che interferiscono col commercio comunque portano voti, di solito magari uno se li tiene prima di delegarli, perché dipende dall'obiettivo che uno ha. Ecco, io qua interrompo un attimo e poi le redo la parola. Voglio sentire l'assessore, perché qua calza il suo intervento. Lei, voi avete aderito come comune, si è sentito defraudato di un qualche cosa, oppure no, aderendo a questo progetto? Io direi che veramente abbiamo fatto qualcosa di concreto. Cioè, ad Abano Terme stiamo facendo qualcosa di concreto, qualcosa di reale, qualcosa di vero. Io, appena Marco e Nicola mi hanno proposto questo bando, noi eravamo veramente entusiasti, ma perché la concretezza c'è? Cioè, alla fine noi riusciamo a fare qualcosa di importante. E ne sentite la mancanza di questo? Beh, per noi è ossigeno questo. Per noi vuol dire dare al territorio, dare all'attività economica qualcosa di importante. Noi con loro siamo riusciti a mettere in piedi diversi avvenimenti. Non parlo solo delle manifestazioni, ma parlo anche di una fontana tematica. parlo anche di quello che faremo prossimamente, dico, nel 2015, che è domani. Faremo qualcosa di importante, cioè proprio l'entrata della nostra città. Io credo che, se non avessimo avuto questo bando sui distretti, ahimè, non saremmo riusciti a fare niente. E quindi io dico veramente grazie a loro, alla loro volontà. Dico, anche noi ci abbiamo messo del nostro, perché comunque qualcosa ci dobbiamo mettere. In questi bandi diciamo che noi dobbiamo, come amministrazione comunale, dare qualcosa. Ma la diamo volentieri. Cioè, la tassa sulla pubblicità, uno sconto su quella, dopo l'altro aspetto potrebbe essere l'esenzione della cosa sempre per le attività economiche. Quindi questa parte qua la decidete voi o è sempre nella direttiva regionale? Beh, fa parte del bando, cioè noi per aderire al bando dobbiamo anche impegnarci su questi temi, a dare qualche agevolazione a queste attività economiche. Per noi credo che sia una cosa giusta, una cosa importante, perché andiamo poi ad aiutare quelle attività che hanno bisogno. Non è che noi lo diamo così a tutti, lo diamo soltanto a quelle attività che veramente sono in sofferenza. Poi c'è un altro aspetto importante, il manager di distretto. Noi oggi abbiamo dei problemi, non da poco, nei centri storici, ma anche nei quartieri, nei centri urbani. I negozi sfitti. Ah, mamma mia. Quelli conoscono. Hanno, se sono sfitti, molto probabilmente è un problema di costo dell'affitto. Ecco, il ruolo è anche quello di cercare di far rientrare, diciamo, nel circuito commerciale, anche queste aree, che altrimenti creano delle difficoltà oggettive alla città, al mondo del commercio stesso, alle attività complessivamente. Le leve possono essere anche di tipo fiscale. Una premialità se affitti, una penalità se non affitti. Insomma, ci sono degli interventi interessanti che vanno a rilanciare il ruolo. Infatti, voi commercianti, la coinvolgo, sono molto come commerciante perché so che svolge questa attività. A fronte di quanto diceva il sindaco, di certi provvedimenti, e poi, vabbè, lei fa parte anche del discorso della Confessa Centri, come l'avete presa? Come la vedete? Beh, noi la vediamo... Cioè, concretamente, da chi lavora ogni giorno e vede come vanno le cose? Certo, diciamo che la realtà di Est è già molto avanti, devo dire, perché poi, sì, abbiamo partecipato a questo bando regionale, questo di novembre, però avevamo già partecipato a un bando che era un po' proprio ideutico a questo, già nel 2013, e siamo arrivati, tra l'altro, la prima cittadina che non capoluogo di tutto il Veneto. Però avete tanti abitanti, quanti ne avete? Beh, abbiamo, diciamo, nel centro storico sono circa un centinaio, ecco, e proprio dentro alle mura, diciamo, dentro ai ponti cosiddetti di Est. Però, ecco, noi è da tempo che stiamo ragionando su questo tipo di collaborazione tra, diciamo, il tessuto commerciale e la parte amministrativa e attraverso anche, appunto, questi progetti portati avanti dalla Confesa Esercenti, ci abbiamo creduto fino in fondo, sottolineo che a Este abbiamo già deliberato uno sconto del 30% sull'Atari per chi aderirà a questo progetto. Quindi è già... che viaggiare da soli non si può più. Per affrontare la crisi e tutte le difficoltà che si stanno... che sono sorte, diciamo, in questi anni, abbiamo capito finalmente pianino pianino con molta difficoltà, devo dire, non è stato molto semplice, che bisogna unirsi e fare un attimo rette. E quindi l'associazione dei commercianti, i commercianti che non sono anche associati, si sono messi insieme e stanno portando avanti questa cosa, collaborando ovviamente con le amministrazioni che sono fondamentali per portare avanti il progetto, insomma. Un'amministrazione quanto diventa fondamentale in questo? E quanto, per esempio, Noventa, che fa i venti, che comunque cerca di muoversi, però è un comune completamente diverso da Abano, per esempio. Riesce ad innescare questi meccanismi? Perché voi siete fortemente residenziali. Siamo fortemente residenziali e abbiamo invece questa necessità di animare gli spazi urbani anche col commercio. Noi abbiamo partecipato al bando, tra l'altro, in sinergia con un comune con termine di un'altra provincia, anche se le province sappiamo... Ah, quindi, con termine. Che è il primo comune della rivista del Brento o perlomeno, anche qui c'è una disputa antica per cui qualcuno si sente il primo o l'ultimo, ma insomma è sempre tutto relativo. Al di là di questo, siamo veramente soddisfatti perché ne è nata anche un ragionare con altri e quindi fare sinergia. Fare sinergia, tra l'altro, io penso che questo, spero anche innanzitutto, porti a questo meccanismo a cui alludeva il consigliere di Este, cioè una vicinanza, una vicinanza di intenti tra commercianti o comunque chi si occupa del produttivo perché non sempre la si ritrova. c'è molto particolarismo, è una connotazione che distingue il Veneto, dai ci distingue. Ma io penso che questo bando, il finanziamento, ci darà una mano in questo senso. Devo dire che noi abbiamo anche una peculiarità che sta già riverberando a livello locale, ossia vorremmo spostare anche il mercato settimanale. Naturalmente nascono anche le prime critiche perché chi ce l'ha di fronte e se lo ritroverà magari a qualche centinaio di metri di distanza subisce in qualche misura a questa scelta. Però io penso invece che possa diventare un volano per tutti. Possa diventare un volano per tutti se tutti sapranno cogliere le potenzialità del progetto. È per questo che anch'io sono soddisfatto del fatto che ci sia una persona terza, qual è il manager di distretto, che non è vista quindi come una parte in causa ma che obiettivamente darà le linee di indirizzo perché il progetto prenda il massimo respiro. Mi auguro. Manager di progetto, che tipo di lavoro si presenta? Partiamo dal presupposto che finalmente anche in Italia e in Veneto si ragionano di queste tematiche in maniera organica. Perché finora dove si è? Beh, ha fatto l'esempio eclatante e vabbè, c'erano altre città anche in Europa, no? Sì, la storia è abbastanza lunga a parte da fine degli anni 70. No, ma raccontiamola perché i nostri testatori sono curiosi di sapere. Da problemi legati soprattutto al tema della sicurezza. Anche noi ce l'abbiamo la sicurezza, forse. Alcune aree centrali non si sentivano più sicure. in maniera privatistica si sono autofinanziate una sorta di sicurezza. Da lì hanno visto che la gestione unitaria di un'area quindi che non riguarda solo lo sviluppo di impresa ma la gestione della sicurezza, la gestione dell'area urbana, la gestione degli eventi, la programmazione appunto della promozione di un'area in maniera unitaria funzionava. dagli Stati Uniti si è spostate nei paesi anglosassoni quindi l'Inghilterra per poi arrivare ai paesi francofoni e finalmente arrivare al sud dell'Europa quindi Spagna, Italia e pian piano Grecia. Da noi come diceva prima Serraglio ci si ragiona da un po' di anni a spot. Adesso con le leggi 50 ci sono due articoli che parlano di politiche attive. solitamente la normativa in qualche modo dagli indirizzi generali di cosa significa commercio piuttosto che un altro argomento ci sono due articoli sulla legge regionale 50 che parlano di politiche attive. L'articolo 7 che sono i programmi integrati cioè i tre bandi precedenti l'articolo 8 che sono i distretti del commercio cioè il bando alla quale abbiamo partecipato. Definendo un po' appunto quali sono le caratteristiche di gestione di alcune aree quindi il distretto aree che possono essere centrali o meno l'importante è che ci siano delle imprese nel caso specifico di Este è il centro storico neanche tutto in altri casi possono essere non per forza il centro ma un'area diversa la cosa importante è definire l'area e partire dal presupposto scusa che tutto parte dal tema di gestione la città purtroppo è un sistema complesso dove ci sono residenti ci sono imprese ci sono turisti c'è il tema della mobilità c'è il tema dell'accessibilità c'è il tema della residenza e quindi come tutte le aree complesse vanno gestite in maniera professionale ci dobbiamo provare e speriamo che i risultati arrivino anche in Italia e in Veneto infatti siamo partiti un po' tardi noi noi siamo partiti un po' tardi dobbiamo dire che anche le altre organizzazioni abbiamo fatto una visita a Birmingham un po' di anni fa e ci raccontavano che per arrivare a un modello di gestione che funzionasse ci hanno messo vent'anni addirittura noi sono una decina d'anni che stiamo lavorando su questi temi questa è probabilmente la realtà più sviluppata ma già anche in termini di sensibilizzazione come CESCOT abbiamo fatto alcuni progetti come Urbe Viva come anche la formazione stessa sia gli operatori privati che operatori pubblici che persone disoccupate eccetera stiamo andando avanti è chiaro che ci vuole tempo perché si tratta di organizzazioni complesse come diceva Giacomo organizzazioni complesse significano professionalità significa capacità di sussidiarietà significa capacità di mettersi assieme tra operatori di mettersi assieme tra associazioni per cui è un lavoro è un lavoro i distretti sicuramente sono l'occasione per iniziare questo lavoro perché già il bando dà degli indirizzi il cuore è il manager l'altro punto fondamentale del bando è l'accordo di partenariato prima Luisa accennava al fatto che ad esempio le leve fiscali sono utilizzate per chi ne ha bisogno per chi aderisce all'accordo cioè noi dobbiamo che cosa è successo ad esempio anche nell'attività volontaristica che spesso fanno i commercianti di un'area i 10 commercianti e tirano la classica carretta a un certo punto pur tirando la carretta si prendono critiche insulti eccetera non ne hanno un ritorno chi critica magari ne ha più ritorno di chi tira la carretta e che cosa succede dopo un po' di tempo si stancano siccome in Italia non ci sono delle norme che come dire danno delle regole nella ad esempio nella nella distribuzione organizzata se tu vuoi entrare in un'area commerciale firmi un regolamento stai a determinate regole e paghi nell'anno in un'area pubblica questo non si può non ci sono delle regole per cui giustamente per cui obblighi gli altri ci devono dobbiamo trovare dei meccanismi premiali per per favorire il coinvolgimento dei soggetti non per sfavorirlo la regione questa cosa l'ha recepita devo dire che l'ha recepita proprio grazie ma Giacomo lo può spiegare bene alla sperimentazione che c'è stata nel precedente progetto con il famoso protocollo di intenti ma adesso ne parliamo questo è il discorso che facevo prima cioè abbiamo un unico organismo in questo modo cosa che esiste invece nella grande distribuzione nei centri commerciali infatti io voglio parlare parliamo di partire da questo perché da noi un aspetto importante ecco la premialità che possiamo dare attraverso lo strumento legislativo non che gli anglosassoni hanno impiegato cioè chiaro che Birmingham o altre realtà del nord hanno impiegato hanno fatto un percorso lungo ma sono state agevolate comunque da uno strumento normativo legislativo che ti dava la possibilità si fa tipo un referendum tra i commercianti se il 50 più uno dice sì all'insieme bene sono tutti tenuti a far parte dell'insieme quindi non c'è più la fuga come dire tutti lavorano insieme non ci sono dieci che lavorano per cento che non fanno si lavora tutti insieme ma c'è uno strumento legislativo normativo che ti mette insieme in Italia manca questa legge ci aiuta ad andare nella direzione giusta ecco vorrei proprio ripartire anche da questo spunto perché per capire quanto anche gli amministratori sindaci gli operatori del settore vivono con sofferenze il discorso dei centri commerciali artificiali e quindi quanto questo può essere una leva motivazionale perché voi stessi sindaci penso che vabbè 90 non è 90 di piave per cui c'è il distretto dello shopping attaccato a diversi problemi però comunque penso che ne risentiate indubbiamente chi più o più meno e per cui capire se questo tipo di regolamentazione può andare a scardinare un meccanismo già esistente pubblicità pochi secondi poi ritorniamo insieme a tutti infatti o che a a a Grazie a tutti.